Salve, amici, come state? Benvenuti. Oggi vi porto un'anteprima speciale della Terra Amara. Zulia si reca alla tomba di Ankar. Lamentandosi per averla persa e per non averla protetta da Beaccais. Accarezza la sua lapide dicendole che ora può riposare in pace perché il suo assassino ha pagato per il suo crimine. Demir le si avvicina e le dice che sapeva che sarebbe andata a trovare Ankar. Zulia risponde che voleva parlarle. Demir la ringrazia per aver ottenuto giustizia per sua madre e ora può riposare in pace. Zulia gli chiede se ha già parlato con il procuratore. Demir dice che il corpo di Beaccais è stato portato all'obitorio e il procuratore ha detto che il caso sarà chiuso perché il colpevole è stato trovato. E non c'è più nulla da fare. Zulia gli chiede se permetterà a Beaccais di essere sepolta lì. Demir dice di no e di averne già parlato con Fekeli. Che parlerà con Mujegan per convincerla. Zulia dice che le manca molto Ankar. Demir dice di capirla e che Ankar le voleva bene e la considerava come una figlia. E fa notare a Zulia che ha fatto molto per Ankar e per la famiglia nonostante tutto il male che le hanno fatto. Le chiede anche chi è Sadi e perché gli ha chiesto di aiutarla con il caso. Zulia gli dice che Sadi era un noto tenente che ha conosciuto a Istanbul e che l'ha aiutata molto in passato. Così gli ha chiesto di indagare sul caso. Demir è felice del suo aiuto e chiede a Zulia perché non gli ha detto cosa stava facendo sul caso di Ankar. Zulia spiega che aveva molta paura che quando lui avesse scoperto che Beaccais era il colpevole l'avrebbe uccisa e lui sarebbe andata in prigione. Demir la ringrazia per il suo interessamento e il suo aiuto. Dice anche che ogni volta che la guarda si ricorda di sua madre ed è per questo che tutti a Kukurova la rispettano e la amano. Perché è coraggiosa e gentile come Ankar. La sera Fikret porta a Mugeigan una coperta. Ma lei la rifiuta. Nazire porta a Mugeigan del cibo. Ma Mugeigan si rifiuta di mangiare. Così Fikret le chiede di mangiare qualcosa o potrebbe ammalarsi. Mugeigan triste le dice che non ha voglia di mangiare. Fikret cerca di tirarla su di morale parlando di Kerem. Ma Mugeigan scoppia in lacrime e dice che suo figlio è l'unica cosa che conta per lei ora. Fikret le dice che può contare su di lui perché non la lascerà sola e che deve essere forte perché Kerem ha bisogno di lei in salute. Quindi deve mangiare bene. Mugeigan accetta e Fikret le dà un po' di cibo. Fekeli arriva e si avvicina a Mugeigan chiedendole come sta. Mugeigan risponde che è molto triste e si vergogna così tanto che non riesce a guardarlo negli occhi dopo quello che è successo. Fekeli le chiede perché dice questo se non ha fatto nulla di male. Mugeigan risponde che sua zia ha ucciso l'amore della sua vita per avidità. Fekeli le dice che non ha fatto nulla e che non è da biasimare perché nessuno può scegliere la sua famiglia né è responsabile di ciò che fanno. Mugeigan dice che la zia e il padre l'hanno delusa. Così Fekeli cerca di rincuorarla. Mugeigan le dice che lui è una persona molto buona e che deve soffrire anche più di lei. Ma cerca comunque di confortarla. Fekeli dice che sarà presente come la sua famiglia e accenna al funerale di Beakhaiz. Mugeigan le chiede di non preoccuparsi perché Beakhaiz sarà sepolta a Istanbul perché sa quanto Ankar fosse importante per lui e non permetterà che il suo assassino sia sepolto nel suo stesso posto. Fekeli dice che non vuole lasciarla sola al funerale ma non si sente in grado di accompagnarla. Mugeigan dice che non deve preoccuparsi perché si prenderà cura di se stessa. Fekeli risponde che non la lascerà andare da sola e chiederà a Chetim di aiutarla. Fikret dice a Fekeli che accompagnerà Mugeigan. Così Fekeli accetta. Mugeigan teme di essere un peso per loro ma Fikret insiste che non la lascerà sola nel suo lutto e che andranno il giorno dopo al funerale. Mugeigan lo ringrazia e se ne va dicendo che è molto stanca. Fekeli commenta che spera Mugeigan si rimetta presto. Fikret dice che deve essere molto difficile. Perché ha scoperto che sua zia e suo padre sono assassini e lo stesso giorno ha visto morire sua zia. Fekeli dice che all'inizio le dispiaceva per Beakhaiz. Perché Bezat l'aveva lasciata alla deriva. E così l'ha lasciata vivere insieme a loro. Fikret dice che è impossibile sapere chi aiutare e chi non aiutare. Ma Fekeli afferma che avrebbe dovuto accorgersi prima di quanto fosse dannoso avere Beakhaiz intorno. Ma ha pensato solo ad aiutare l'unico membro della famiglia di Mugeigan rimasto e ha sbagliato a farlo perché non ha capito quanto Beakhaiz fosse. Malvagia. Si lamenta in lacrime. Dicendo che se si fosse accorta in tempo. Ankar sarebbe ancora vivo. Poi Fekeli chiede a Fikret di non lasciare Mugeigan da sola e che se hanno bisogno di qualcosa devono chiamarlo perché non vuole che lei si senta. In difesa. Davanti al quadro di Ankar. Fekeli si lamenta di non essersi di quello che Beakhaiz ha fatto e di aver vissuto accanto a colui che le ha portato via l'amore della sua vita. Ma dice che almeno può trovare conforto nel fatto che è stata fatta giustizia per lei e che ora può riposare in pace. Perché ora Zulia sta seguendo la sua eredità ed è persino riuscita a placare Demir. Perché sa che lei aveva molta paura che Demir diventasse un assassino. Ma Zulia si prende cura di lui. Dice a Ankar che gli manca molto e che la ama così tanto che vorrebbe morire per poterla rivedere. Il giorno dopo Mugeigan e Fikret si recano all'obitorio. Aikut fa le condoglianze a Mugeigan e consegna loro i documenti necessari. Il corpo di Beakhaiz viene portato al carro funebre. Fikret abbraccia Mugeigan e poi saluta Aikut. In macchina Fikret dice a Mugeigan che capisce il suo dolore e che anche se Beakhaiz ha fatto cose orribili è sempre sua zia. Quindi non deve trattenere il suo dolore. Quindi se vuole piangere può farlo per sfogarsi senza sentirsi in colpa. Mugeigan dice che non sa per cosa piangere. Se per la sua perdita o perché Beakhaiz ha ucciso diverse persone con l'aiuto di suo padre. Racconta che quando era piccola era sempre felice di vedere la zia. Che l'ha sempre trattata con più affetto della madre. E che quando Beakhaiz veniva a casa si sentiva finalmente una famiglia. Perché i suoi genitori preparavano grandi cene e si poteva mangiare tutti insieme. Ma alla fine si scopre che sua zia era un mostro. Fikret le dice che non ha colpa per quello che ha fatto la sua famiglia e che lei è diversa perché ha un cuore gentile. Mugeigan dice che Beakhaiz era l'unica di cui si fidava ma che tutti i suoi ricordi andranno con lei. Fikret cerca di incoraggiarla dicendo che tutti possono cambiare il proprio destino e che ha solo bisogno di tempo. A Istanbul si sta svolgendo il funerale di Beakhaiz ma nessuno ci va. Mugeigan tiange per quello che hanno fatto suo padre e sua zia mentre Fikret aiuta con la tomba. Un conoscente la vede e le si avvicina per farle le condoglianze. Mugeigan la ringrazia e commenta che ha chiamato diverse persone per dire loro della morte e del funerale di Beakhaiz. Quindi chiede dove sono tutti quelli che hanno detto che sarebbero venuti. La donna gli dice che c'è stato un inconveniente e che non hanno potuto partecipare. Ma che tutti rimpiangono la morte di Beakhaiz perché le volevano bene. Mugeigan la ringrazia e chiede di un'altra persona vicina a Beakhaiz. La signora dice che anche lei non ha potuto partecipare. Quindi Mugeigan la ringrazia tristemente per essere andata al funerale e pregano per Beakhaiz. Poi la signora se ne va e Mugeigan dice al padre e alla zia che vorrebbe non aver mai scoperto quello che hanno fatto. Perché ora ogni volta che li ricorderà proverà vergogna invece che tristezza. E questa è la fine di quest'anteprima. Alla prossima volta.